Nelle ultime anticipazioni sarà la coppia Lorenzo Manila a farla da padrona. A colpire i fan sono state le parole perentorie di Lorenzo. Parlando della compagna Manila Nazaro, infatti, l'ex calciatore si sfoga dopo aver visto un video e pronuncia parole severe che hanno tutta l'aria di essere definitive. Per me possiamo chiuderla anche qua, per me puoi andarla a chiamare adesso, sinceramente si sente dire da Lorenzo il conduttore Filippo. Cosa avrà mai fatto, oppure detto, l'ex Miss Italia per causare una simile reazione nel compagno? Amoroso sta esagerando, come già molti l'hanno accusato nelle scorse puntate, oppure stavolta ha visto una reale mancanza di rispetto da parte della Nazaro? Nelle anticipazioni si mostra anche un frame di Manila con la faccia sconvolta, svalordita e incredula, quasi in lacrime. Cosa ha sentito dire e ho visto fare a Lorenzo? Filippo le ha forse comunicato alla decisione del fidanzato di avere un fallo di confronto anticipato? Alcune indiscrezioni parlano di un avvicinamento di Lorenzo a una tentatrice. Cosa mai fatta prima dal fiorentino? Sarà così? Queste e molte altre domande sono quelle che si fanno i tanti fan di questa coppia. E voi cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.